Il pareggio per 1-1 nell'ultimo amichevole precampionato contro il Frosinone ha lasciato in dote tante certezze in casa Avellino. Sabato è il debutto in campionato al Partenio Lombardi contro il Brescia, oggi la ripresa degli allenamenti dopo un giorno di riposo, ma soprattutto la consapevolezza che l'Avellino è pronto per questo quinto anno consecutivo in Serie B. Col Frosinone, squadra allestita per il salto di categorie in Serie A, i lupi di Novellino hanno confermato le premesse che già si erano avute in precedenza in Coppa Italia. L'Avellino è squadra compatta e corta tatticamente, in grado di sviluppare il suo gioco soprattutto sugli esterni offensivi. L'avvento di Morosini darà ulteriore qualità alla manovra d'attacco, ma specie nelle partite interne bisognerà forse usare qualcosa in più. E questi saranno giorni importanti proprio per far inserire Morosini nei meccanismi che Novellino ha imposto, magari facendo avanzare il trequartista e soprattutto lasciarlo libero da compiti di copertura. Di certo finora l'Avellino è piaciuto, ma soprattutto non ha arrancato come accadde giusto un anno fa quando il precampionato dei lupi lasciò tanti punti interrogativi che poi il campionato ha confermato. Si riparte quindi con entusiasmo e con quella garanzia di nome Walter Novellino. Allenatore esperto e soprattutto temuto in un campionato di B che quest'anno vedrà numerosi allenatori al debutto sulle panchine del campionato cadetto. Poi chissà che qualche ulteriore ciliegina possa giungere dal calciomercato alle battute finali, ma per il momento c'è solo tanta attesa e voglia di vedere questo Avellino all'opera nel suo quinto campionato in Serie B.